Stangata d'autunno anche sulle famiglie sarde, non solo caroenergie bollette, l'Adi Consum lancia l'allarme sui costi dei prodotti alimentari nell'isola, inflazione superiore alla media nazionale. Ieri in Consiglio ha prodato il caso di due famiglie che dal 2013 occupano senza titolo l'immobile di Via Tarragona, che prima ospitava il servizio di igiene. Mulas lancia l'allarme, intervengano i servizi sociali. Questa mattina la presentazione della 22esima edizione del Sardinia Open Trofeo e Ambiente, che si disputerà nei prossimi giorni ad Alghero, previsti oltre 100 partecipanti provenienti da 25 nazioni. Un saluto a tutti voi, ben ritrovati telespettatori di Catalan TV. Apriamo il Tg parlando del caroenergie e dei rincari che in Sardegna si stanno facendo sentire anche sugli alimentari come prevedibile. Soltanto un mese fa la Di Consum aveva parlato di Stangata d'autunno ed effettivamente l'inflazione è persino maggiore alla media nazionale. Impennata nell'ultimo mese per i prezzi dei prodotti alimentari in Sardegna, con l'inflazione che nel comparto raggiunge nell'isola quota 11,2% contro una media nazionale del 10,5%. È quanto denunciato da Di Consum Sardegna, che ha calcolato le ripercussioni sulle tasche delle famiglie sarde, che devono dunque fare i conti non solo con il caroenergia e i prezzi delle bollette schizzate alle stelle. Considerati i dati dell'Istat, oggi ogni singola famiglia residente in Sardegna è costretta a spendere 574 euro in più su base annua solo per mettere il cibo in tavola, spiega il presidente di Di Consum Sardegna, Giorgio Vargiù. Questo perché gli alimentari hanno subito rincari fortissimi. I prezzi sono cresciuti nell'ultimo mese del 10,2% a Cagliari, dell'11,7% a Sassari, con il record che spetta a Olbi a Tempio, dove i listini di cibi e bevande sono aumentati in media dell'11,8%. Il mercato è totalmente in mano agli speculatori e per combattere la speculazione servirebbe a ritornare i prezzi amministrati dallo Stato, sostiene Vargiù, che guarda però dopo il 25 settembre. Il nuovo governo dovrà necessariamente adottare misure urgenti per bloccare i prezzi dell'energia e quelli dei carburanti, interventi per detassare i listini dei generi primari come gli alimentari e modificare il decreto sulla tassazione degli extraprofitti delle società energetiche, portando la stessa almeno all'80%, conclude il presidente di Di Consum Sardegna. Domenica 25 settembre si vota, ultimi scampoli di campagna elettorale. Domani infatti si chiude oggi nel nostro Tg spazio a Mario Perantoni, deputato uscente, candidato del Movimento 5 Stelle per la Camera all'Uni nominale del Collegio di Sassari. Mario Perantoni, candidato per il Movimento 5 Stelle all'Uni nominale per la Camera, mancano ormai pochissimi giorni al voto del 25 settembre. Intanto la prima domanda, perché votare il Movimento 5 Stelle il 25 settembre? Il Movimento 5 Stelle ha realizzato l'80% del programma che avevamo presentato agli elettori nel 2018. Ora presentiamo un altro programma, non presentiamo l'agenda Draghi, né chiediamo che Draghi venga a fare il prossimo capo del governo. Noi abbiamo il presidente Conte, che è una persona seria ed affidabile, è un programma concreto e realizzabile. E se gli italiani ci daranno fiducia, noi lo realizzeremo sicuramente. Lei è il deputato uscente, quali sono stati gli impegni principali e maggiori in questi quasi 5 anni? Diciamo che le cose più importanti che abbiamo realizzato sono quelle nel campo sociale e in particolare il reddito di cittadinanza e per le piccole e le medie imprese il super bonus. Io mi sono impegnato moltissimo per quanto riguarda il fine vita, la regolamentazione della coltivazione domestica della cannabis e sono dei temi che io vorrei assolutamente portare avanti, così come vorrei portare avanti ancora la tutela dei diritti delle persone LGBT. Per quanto riguarda la Sardegna, quali sono le istanze da portare in Parlamento? La Sardegna soffre da decenni di carenze croniche, infrastrutture, trasporti, adesso anche il costo dell'energia. Io credo che prima di tutto deve essere la giunta regionale, noi sardi che dobbiamo proporre e portare avanti le nostre battaglie qui in regione. La regione deve essere un'interlocutrice del governo. Noi sardi a Roma faremo tutto quello che è possibile per la Sardegna, prima di tutto trasporti e prima di tutto costo dell'energia. E ieri è tornato a riunirsi il Consiglio Comunale, tra i punti affrontato quello del rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo 2022-2025. Si è poi parlato delle lottizzazioni di Sant'Imbenia sulla base di un ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle. In merito verrà presentata una risoluzione, ma ieri in Consiglio, nello spazio dedicato alle brevi segnalazioni, è approdato anche il caso di due famiglie che dal 2013 occupano senza titolo l'immobile di Via Tarragona, che prima ospitava il servizio di igiene. Il Tribunale Penale di Sassari ha emesso il decreto di sequestro preventivo. Gli inquilini avranno ora 30 giorni di tempo per sgomberare i locali. Oggi, nel periodo più difficile di sempre, tra pandemia, crisi economica, sociale e sanitaria e aumenti di energia elettrica, assistiamo a uno sgombero esecutivo nei confronti di due famiglie che oltre a non avere reddito hanno anche due minori in condizioni di disabilità, ha detto Cristia Mulas, consigliere comunale dell'Udc e presidente della Commissione Sanità. Comprendo tutto e la legge va sempre rispettata, ma mi chiedo perché oggi, perché in dieci anni non è stato fatto niente per aiutare queste famiglie e in generale tutte le famiglie che sono senza casa, perché da troppi anni non si riesce a costruire una casa popolare, si è chiesto Mulas. Sentiamo proprio un estratto del suo intervento in consiglio. Ci sarà uno sgombero, uno sgombero di due famiglie, di due famiglie con un tradizzo di 30 giorni che hanno a carico 4 minuti, di cui 2 minuti, quello di come interviene tecnico, 2 minuti disabili, con comma 3 a piccolo 3, comma 3 a piccolo 1. Ovviamente, perdonatemi perché sono molto arrabbiato, perché credo che queste cose non devono accadere. Ovviamente, occupare uno stabile pubblico, quello che c'è in Via Tarragona, non è un reato, e i reati non vanno mai giustificati, perché non si devono occupare gli stabili, non si devono occupare l'appartamento, perché il reato di occupazione allusiva di una cultura pubblica è un reato, lo ribadisco. Ma io vi dico, dopo dieci anni, dopo tre amministrazioni, dopo tre sindaci, oggi arriva uno sordero, con dieci anni, dieci anni, tre sindaci, tre amministrazioni, oggi lo so, ha una famiglia che non ha problemi, poi ne ha difficoltà, che ha sbagliato, perché ha sbagliato, ma oggi la tutta la vuole di casa, così, trenta giorni di tempo. E mi chiedo, il dramma di questa famiglia, il dramma di questi bambini, chi lo paga? Ma chi lo paga? Ma perché dobbiamo arrivare a questo punto? Perché, all'interno dei servizi sociali, ma non l'assessore, perché non si può puntare di con questo assessore, ma in un punto di tempo, verso l'interno dei servizi sociali, in dieci anni non si è fatto niente per andare incontro a quello che è un disagio. E ricordiamoci che questo è un disagio, è un disagio che stanno trovando tutte quelle famiglie che oggi non riescono ad avere un appartamento. Sono tutte quelle famiglie che oggi sono in difficoltà, che sono costrette a occupare per avere un appartamento. E io oggi qui, come rappresentante, e come ruolo di giornale, mi sento, mi fa schifo quello che sta succedendo. Ci fermiamoci alla pubblicità, tra poco. Tre giorni di guida in sicurezza per la Brigata Sassari, sino a oggi, in collaborazione con l'Automobile Club di Sassari, gli istruttori ACI Ready to Go, con il sopporto del Comune di Sassari, Polizia Locale e Confalonieri Auto, iniziative in occasione della Settimana Europea della Mobilità. Si tratta del terzo progetto realizzato dall'Automobile Club d'Italia, dopo quelli di Torino e l'Aquila con la Brigata Taurinense. Lo scopo è formare e sensibilizzare il personale dell'esercito sulle principali tematiche dell'educazione stradale e della sicurezza. Due cicli quotidiani di formazione del progetto a Sassari, due ore di teoria presso la sede della Polizia Locale e tre di pratica in Piazza Lesenni. Nel corso della parte teorica sono stati affrontati i concetti fondamentali della guida in sicurezza utili a prevenire un incidente stradale, a partire dal rispetto dei limiti di velocità, della sicurezza attiva e passiva, fino ad arrivare alla necessità di mantenere sempre la massima concentrazione al volante. La parte pratica invece è iniziata illustrando la corretta posizione di guida per poi affrontare lo slalom dinamico, l'utilizzo del dispositivo ABS e alcuni esercizi su fondo a scarsa aderenza con evitamento dell'ostacolo. Sulla base degli ultimi dati sugli incidenti stradali ACI di Stata Sassari nel 2019, con 428.616 veicoli circolanti, si sono verificati 1.390 incidenti con 17 morti e 2.085 feriti. Nel 2020, con 433.761 veicoli circolanti, gli incidenti sono stati 972, 16 le vittime e 1.338 feriti. E' importante che tutti i conducenti sappiano affrontare in maniera corretta le insidie che possono incontrare al volante della propria auto, ha dichiarato Gio Lopez di San Vittorio, presidente dell'Automobile Club Sassari. A maggior ragione i nostri militari della Brigata Sassari, orgoglio dell'esercito italiano che alla guida dei propri mezzi, percorrono molti chilometri, dovendo fare fronte anche a situazioni atmosferiche avverse. Sapere come reagire nei tempi e nei modi corretti fa la differenza. Quando si effettua una missione è determinante, inoltre, saper affrontare in maniera efficace una situazione di pericolo per evitare di rimanere vittima di un incidente stradale. Questa iniziativa è stata realizzata nella Settimana Europea della Mobilità, con lo scopo di lanciare un messaggio forte per sensibilizzare istituzioni, media e opinioni pubbliche al rinnovamento e al cambiamento dei propri stili di vita, ha continuato il presidente dell'Automobile Club Sassari. E' estremamente significativa anche per attirare l'attenzione su un tema di estrema rilevanza, sia economica sia sociale, quello della sicurezza stradale che ogni anno miete vittime innocenti nel nostro territorio. La mobilità presente e futura non può che basarsi sia al rispetto dell'ambiente che sull'adozione di comportamenti corretti da parte di tutti, automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni, ma anche quelli a cosiddetta mobilità leggera, monopattini e biciclette elettriche sempre più utilizzati in città. Concluso il presidente Giulio Pes di San Vittorio. Anche quest'anno l'Università di Sassari aderisce al progetto SHAR per Notte Europea dei Ricercatori, promosso dalla Commissione Europea per diffondere la cultura scientifica e avvicinare i cittadini all'attività di ricercatori e ricercatrici. Già questa settimana sono previsti tre eventi di avvicinamento. Stasera il Giardino del Museo Sanne in Via Roma ospiterà con inizio alle 18.30 da Tignica Project Open Conference, un incontro sulla missione archeologica italiana in Tunisia in cui interverranno appunto l'archeologa Paola Ruggeri e altri membri della missione. Domani a Villa Mimosa invece una tavola rotonda aperta a tutti gli interessati su verde urbano e clima a Sassari. Sempre domani presso la sede dell'ente parco dell'Asinara Porto Torres si terrà invece a partire dalle 11 un workshop dal titolo Biodiversità, transizione ecologica e parchi naturali. La settimana della Notte dei Ricercatori si aprirà il 26 settembre per vedere la giornata clou il 30 che sarà ricca di appuntamenti al polo universitario del quadrilatero in Via Le Mancini. Gli spazi dello stesso saranno aperti a tutti ma per organizzare al meglio le attività della mattinata di venerdì le scuole sono evitate a prenotare le proprie classi inviando un'e-mail all'indirizzo terzamissionechiocciolaunis.it entro martedì 27 settembre. Il programma completo di Sharper Sassari è disponibile sul sito dell'Università. Sarà la violinista cagliaritana Anna Tifu, stare internazionale di origine sarda, inaugurare con l'orchestra del De Carolis la stagione lirica 2022 dell'ente concerti di Sassari. Sabato 24 settembre alle 20.30 le porte del Teatro Comunale si riaprono finalmente per accogliere il pubblico in ogni ordine di posti. Il concerto, che è fuori abbonamento, prevede l'esecuzione della Sinfonia numero 6, opera 68 pastorale di Beethoven e del concerto il Re Maggiore per violino e orchestra dell'opera 77 di Brahms. Il direttore di orchestra sarà, come per Don Giovanni, in cartellone il 14 e il 16 di ottobre, il valenziano Sergio Alaponte, già a Sassari l'anno scorso per la vedova allegra di Lehar, e prima ancora per l'Aida, Romeo & Juliet, Norma e il barbiere di Siviglia. I biglietti per il concerto della Tidu sono in vendita al botteghino del Teatro Comunale, online nella sezione dedicata. E questa mattina, presso l'Enoteca La Cantina, della Cantina Santa Maria La Palma, è stata presentata la 22esima edizione del Sardinia Open. Trofeo e Ambiente, il torneo di tennis in carrozzina più importante d'Italia e uno dei più importanti al mondo che si disputerà sui camping green set del tennis club di Maria Pia dal 27 settembre al 1 di ottobre. Oltre ad Alberto Corradi, gli organizzatori, anche il presidente del tennis club Alghero, Fabio Fois, gli assessori Maria Grazia Salaris ed Emiliano Piras, il presidente del Consiglio regionale, Michele Paes, e il presidente della Fondazione Alghero, Andrea De Logo. Ma sentiamo le interviste. Alberto, edizione numero 22, siamo, ma ci siamo, ultimi preparativi, fra pochi giorni si inizia. Già, sono passati 22 anni, sembra un giorno, veramente un'eternità. Abbiamo fatto la storia del tennis in carrozzina in Italia e nel mondo, soprattutto ad Alghero, perché comunque la manifestazione da 22 anni è sempre qua, abbiamo fatto due mondiali nel 2017 e nel 2021. Siamo veramente orgogliosi di avere tutti i più forti giocatori al mondo anche quest'anno. Che edizione dobbiamo aspettarci? Intanto, in quanti parteciperanno? Siamo arrivati a circa 100 partecipanti, abbiamo veramente un parterre d'eccezione, perché abbiamo sia il numero uno al mondo, Alfie Hewitt, che aveva vinto la settimana scorsa all'U.S. Open, abbiamo la De Grotte, numero uno al mondo femminile, che ha vinto due edizioni delle Paralimpiadi, il Roland Garros ha fatto praticamente il grande slam, e abbiamo il giovane Wink, che è il numero uno dei quadri, che ha vinto il Roland Garros quest'anno. Quindi il massimo del tennis in carrozzina, un livello eccezionale, veramente. Vedremo anche Alberto Corradi. Purtroppo Alberto Corradi, la carta di identità non mi perdona, e soprattutto i miei gomiti non mi permettono più di giocare, quindi purtroppo Alberto Corradi ha finito di giocare. Assessora Salari, su un altro grande evento sportivo ad Alghero, il Strading Open 22esima edizione. Sì, un evento che si ripete, sicuramente un evento straordinario, saranno cinque giornate di spettacolo, di sport, ma soprattutto, credo che voglio dire, lo sport e il tennis in carrozzina rappresentino veramente un'importante lezione di vita, sia per gli sportivi che per le persone normodottate. Quindi ritengo che saranno sicuramente delle giornate importanti, partecipate, ci saranno oltre 100 partecipanti, i migliori giocatori in carrozzina del mondo, e vorrei ringraziare a nome dell'amministrazione comunale il Presidente Corradi, che ancora una volta sceglie la nostra città, Alghero, come vetrina di questo importantissimo evento. Ed è tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale Ora il Meteo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.